Buonasera, mi chiamo Stefano Patroni e sono l'attuale Presidente dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e di Restaurativa. Ho l'onore di presentarvi in questa occasione il XIX Congresso Internazionale che è andato a coincidere con Conseuro, organizzato per la prima volta nelle stesse date dall'11 al 13 maggio nel 2000 qui nel Palazzo dei Congressi di Bologna, dove attualmente ci troviamo. Bene, devo dirvi che ci aspettavamo una grossa fetta di Odontoiati che partecipava alla nostra manifestazione. Sicuramente abbiamo lavorato intensamente insieme a Lorenzo Breschi, insieme al Consiglio Direttivo, nel realizzare questo progetto molto ambizioso. Ci aspettavamo degli ottimi risultati, ma stiamo superando ogni attesa. Pensate che a livello di pre-iscrizioni abbiamo ottenuto un numero vicino ai 1500 pre-iscritti e sto parlando solo di Odontoiati. Vi sono all'incirca 450, dobbiamo verificare con gli ultimi ingressi ovviamente, di stranieri partecipanti. Ma abbiamo superato di qualche centinaia questi numeri, quindi ci avvicineremo con ogni probabilità ad un numero vicino ai 2000 partecipanti. L'evento in questione è così stato concepito. Su due sale, una sala principale più orientata verso la clinica ed una seconda sala più orientata verso la ricerca. Entrambe completamente piene, ci sono molte persone in piedi e questo è fonte di grande soddisfazione e non stiamo parlando di sale piccole, ma di sale veramente grandi. Grande è il riscontro positivo che ho avuto dai partecipanti, sia in termini di soddisfazione per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda anche l'accoglienza. E quindi siamo soddisfatti sicuramente di questo. Ora, oltre che le due sale indirizzate agli Odontoiati, vi è stato anche un evento odierno gratuito abbinato ai soci dell'Accademia per gli odontotecnici di competenza e sta veramente entusiasmando con delle personaggi molto particolari tipo Nasser Shademan della Malesia, un vero artista, l'abbiamo definito il Michelangelo da Vinci della situazione, più un altro Michelangelo che è Marco Cosso e quindi stanno realizzando anche delle dimostrazioni indiretta di quanto si può ottenere a livello di laboratorio. La figura dell'odonto tecnico è imprescindibile per noi, non possiamo non lavorare con l'odonto tecnico, sia realizzando dei manufatti in modo convenzionale che in modo anche digitale o misto. Abbiamo anche programmato un due giorni di evento sempre gratuito per gli igienisti abbinati all'odontoiata socio dell'Accademia. Anche questo sembra andare molto bene, abbiamo iniziato oggi, quindi siamo molto soddisfatti della cosa. Vi sono tante manifestazioni collaterali, veramente tanta carne al fuoco e tanto da gestire, quindi veramente impegnativo. Quindi la soddisfazione è tanta sia da parte nostra che di tutti i partecipanti a questa tre giorni veramente intensa, che toglie veramente il sospiro. Stasera talalto avremo la nostra fantastica cena. Ora abbiamo chiuso le iscrizioni a quasi 900 persone, mi sembra 870, ci sono altri 200 che spingono per entrare, non sappiamo come fare, perché è veramente impegnativo. Una cena che rischia di superare i mille partecipanti, un dinner party non è solo una cena. E sapete tutti che ci si diverte tanto ai nostri eventi, serali, ci sono tanti giovani, si balla fino a tardi, fino a quando non ci manderanno fuori dal Palazzo Reins, una sede storica di fronte alla chiesa principale. Grazie. 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 Grazie.